Ciao! Buonasera, tutti! Volevo dire due cose per alcune cose. Una, che con l'umore dietro la batteria questa mattina è la Copernica. E' atterrata in una e... Quindi vi ringrazio personalmente. Due, i pezzi che sentirete stasera sono le nostre composizioni. Questa è, apri gli occhi. Come bebe, so bebe, da mi rinforo. Un'SD attenti a loro pezzi che sono le nostre composizioni. Ci sono un'esercizio personalmente. E' un'esercizio personalmente. E' un'esercizio personalmente. E' un'esercizio personalmente. Le rinforo medio che si sono le nostre composizioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.